benvenuti a tutti voi a questo nuovo approfondimento parleremo visto l'attuale stagione di cosmesi estive lo faremo insieme alla nostra professionista in studio è con noi il medico chirurgo che si occupa da diversi anni di medicina estetica claudia ceccaroni benvenuta dottoressa grazie buongiorno grazie a lei per aver accettato il nostro invito allora dottoressa l'estate è iniziata importante prendersi cura della propria pelle ma cambiano le esigenze in base alla stagione ed esistono delle regole da poter seguire per mantenere una pelle in buono stato e in salute è necessario seguire una skin care routine tutto l'anno quindi è necessario seguire delle buone regole comportamentali 12 mesi l'anno esistono però delle regole da tenere a mente io le consiglio spesso le mie pazienti se si vuole appunto mantenere questa pelle in buono stato le regole sono essenzialmente quattro la prima è la detersione detersione quindi detergere il viso mattina e sera è importantissimo per rimuovere i residui di trucco le cellule dello stratocorneo il sebo esistono due tipi fondamentalmente di detersione una detersione per affinità e una detersione per contrasto quella affinità è molto indicata per le pelli secche e quindi prevede l'utilizzo di latte detergente oli burri qualcosa di molto delicato quelle invece per contrasto sono più indicate per chi ha un eccesso di sebo o una maggiore produzione di sebo e sono detersioni a base di tensi attivi quindi schiumogeni acqua micellare queste sono i grandi la grande divisione dei detergenti la seconda regola da seguire è quella dell'idratazione è importantissimo idratare la pelle almeno due volte al giorno mattina e sera fondamentale visto le alte temperature sì in estate va assolutamente potenziata sì la terza regola è la foto protezione quindi proteggersi con una crema foto protettiva in estate così come in inverno e la quarta regola infine è la correzione dei parametri alterati cosa significa che alla sera dobbiamo dedicare un po più di tempo a ciò che la nostra pelle necessita in base all'inestetismo da cui è afflitta quindi utilizzeremo una crema per la gestione del sebo o per l'infiammazione se abbiamo una pelle acneica una crema schiarente o che uniformi il colorito se abbiamo una pelle che tende a macchiare una crema particolarmente delicata se abbiamo una pelle sensibile e così via ovviamente in base alla stagionalità dobbiamo apportare delle piccole accortezze alla nostra skincare routine per fare in modo che la nostra pelle si protegga da quelli che sono gli agenti atmosferici quindi che si protegga dal vento e dal freddo durante l'inverno e dai raggi solari del troppo caldo in estate ecco per una buona routine estiva è importante fondamentale proteggersi dai raggi solari anche in città sì assolutamente la protezione va usata in inverno come in estate al mattino appena svegli bisogna applicare un fattore protettivo io consiglio un fattore protettivo 50 addirittura poi sopra ci si può anche truccare però è buona abitudine applicarlo sempre chiaramente se poi si si va al mare si effettua una giornata di mare l'applicazione va ripetuta più e più volte e con un altro consiglio che do anche spesso alle mie pazienti è quello di non esporsi otto ore dieci ore consecutivamente sotto il sole ogni tanto dare un po di tregua alla nostra pelle e mettersi sotto un'ombra anche semplicemente solo per 20 minuti allora dottoressa ceccaroni forniamo ai telespettatori alle telespettatrici un esempio pratico di trattamento viso estivo per la mattina e per la sera ok allora ci si sveglia il mattino si lava il viso con il detergente questo serve a rimuovere il sebo che si è prodotto durante la notte ma anche il residuo della crema che si è applicata la sera precedente una volta che si è lavato il viso si applica un siero magari con una vitamina una crema idratante e la crema con fattore protettivo poi se un è abituato a truccarsi sopra si può truccare alla sera utilizzeremo sempre il nostro detergente prima ci strucchiamo ovviamente se ci siamo truccati durante la giornata ci strucchiamo ci detergiamo sempre un siero una crema idratante e perché no una maschera idratante che io consiglio la consiglio un piccolo appunto sull'idratazione è molto importante durante l'estate potenziare l'idratazione dall'idratazione dipendono una serie di caratteristiche della nostra pelle come l'elasticità la compattezza la texture durante l'estate aumenta la perspirazione insensibilis cioè è quella traspirazione di acqua quella perdita di acqua che noi normalmente abbiamo attraverso la nostra pelle attraverso la barriera dermoepidermica che non è da confondere con l'aumento della sudorazione quello è dato dalle ghiandole sudoripare l'aumento di questa perdita di liquidi ci fa necessitare di dobbiamo potenziare assolutamente l'idratazione durante la stagione estiva con un siero magari in aggiunta alla nostra crema o con una maschera idratante da applicare due tre volte a settimana alla sera un'altra cosa che consiglio in estate durante la sera è l'esfoliazione è importante esfoliare per rimuovere le cellule dello stratocorneo per rimuovere i detriti cellulari l'eccesso di sebo le creme protettive che abbiamo applicato durante la giornata grazie all'esfoliazione abbiamo intanto una miglior penetrazione della crema che poi andiamo ad applicare e in più facciamo in modo che sebo e detriti cellulari non ostruiscano gli osti follicolari che sono il problema che è alla base dell'acne occludendosi questi osti follicolari danno origine ai classici brufoletti e poi se si estendono all'acne quindi l'esfoliazione anche in estate è fondamentale così come la maschera idratante ma scusi dottoressa è vero che l'esfoliante elimina la bronzatura ecco questo è un mito da sfatare esattamente brava federica non è vero non è vero perché la bronzatura è negli strati più bassi della nostra pelle quello che noi troviamo in superficie sono le cellule morte quindi anzi esfoliando avremo una bronzatura più compatta più uniforme più luminosa e soprattutto anche molto più duratura quindi non è vero che l'esfoliante elimina la bronzatura mi raccomando esfoliatevi anche in estate e quanto ai famosi peeling chimici cosa ci può dire i peeling chimici sono dei trattamenti altrettanto favolosi e utili per la nostra pelle si applica una sostanza a livello del viso o del corpo che determina l'esfoliazione degli strati superficiali dell'epidermide e inducono il derma a produrre fibre elastiche e fibre collagene quindi il risultato che si ottiene è una pelle molto luminosa compatta dalla texture molto bella elastica una pelle elastica non tutti i peeling si possono effettuare durante la stagione estiva solo qualcuno magari quelli a base di acido mandelico che è il più delicato i peeling per esempio a base di acido glicolico sono vietati durante l'estate non vanno bene così come altri peeling leggermente più aggressivi che però invece sono utili durante la stagione invernale per fare in modo che la pelle si riprenda da ciò che è successo durante l'estate è il medico estetico che consiglia il peeling più indicato per la nostra tipologia di pelle ecco bisogna confrontarsi con un professionista assolutamente lui che dice in base all'esigenza in base se la pelle è acneica piuttosto che anelastica eccetera e appunto in inverno io ne consiglio 3, 4, 5 peeling anche da effettuare una volta al mese nella stagione invernale e allora in estate quali trattamenti da evitare? I trattamenti di medicina estetica? i trattamenti che determinano una grande sfogliazione dello strato corneo perché poi non siamo più protetti dai raggi solari quindi eviterei sono da evitare tutti i trattamenti per esempio laser che vanno ad aggredire un po' la nostra pelle in estate è meglio evitarli così come i peeling aggressivi e sole e abbruttatura accentuano le rughe d'espressione ahimè ahimè vengono accentuate e esiste un rimedio per questo? sì sì esiste un rimedio ed è la tossina botulinica la tossina botulinica nasce proprio per eliminare le rughe d'espressione molte volte si ha paura quando si parla di botox e di tossina botulinica invece vorrei dire ai telespettatori chi ci sta ascoltando che la tossina botulinica è un farmaco quindi è il trattamento più sicuro di cui dispone un medico estetico perché prima di arrivare nei nostri studi deve assolutamente passare attraverso l'agenzia del farmaco ad oggi il trattamento con il famoso botox viene fatto per donare un aspetto riposato non tanto ingessato o mefistofelico ma proprio per donare un aspetto più riposato donare apertura agli occhi è comunque naturale assolutamente molto naturale può essere molto naturale è il medico che lo deve effettuare in maniera naturale io lo prediligo diciamo come un po' tutti i trattamenti il mio stile è uno stile molto naturale e quali trattamenti che lei predilige d'estate? ai quali è più affessionata? ma tutti in base all'esigenza in base all'esigenza mi piace guardare il viso della paziente e poter consigliare al momento insisto molto sull'idratazione, sui prodotti e i trattamenti idratanti ma utilizzo botox e acido ialuronico e altri anche prodotti in base a ciò che la paziente necessita in quel momento e quanto alle labbra? cosa ci può dire di trattamenti attinenti appunto alle labbra? mi chiedono spesso se si può effettuare un trattamento di filler labbra d'estate si può i filler si possono attuare così come il botulino durante tutto l'anno se si pensa al Brasile che è uno dei maggiori paesi dove si effettua la medicina estetica e c'è sole praticamente 12 mesi l'anno da qui si evince che anche l'acido ialuronico quindi anche le labbra si possono effettuare in estate qualche accortezza magari di non esporsi direttamente al sole appena effettuato il trattamento ecco, quanto alle tempistiche e come funziona? 24-48 ore in seguito al trattamento magari tenere un po' le labbra al fresco quindi non esporsi direttamente alla luce solare proteggerle con una protezione solare perché no? però ecco si può assolutamente effettuare anche in estate un trattamento di filler labbra è uno dei miei trattamenti preferiti chi mi conosce lo sa non si esce dal mio studio senza un piccolo retocchino alle labbra e come mai dottoressa? perché penso che donino sempre questo aspetto molto giovane le labbra dopo i 25 anni iniziano a chiudersi, ad assottigliarsi, ad avere un aspetto un po' rettilineo quindi ridonare un aspetto a forma di bocca alla bocca è importante per dare un aspetto più giovane e più fresco ed è possibile anche d'estate quindi una curiosità la cosmetica potrebbe essere un'integrazione della medicina estetica? sì, lo è secondo me perché comunque con dei piccoli gesti la paziente a casa mantiene la propria pelle in buona salute e quindi mantiene anche i trattamenti che poi viene a fare in ambulatorio chiaramente non dobbiamo pensare alla cosmesi e alla crema è comunque qualcosa che toglie le rughe questo non può essere, non può succedere però se non altro previene la formazione delle fini rugosità quindi è importante, sì, io la reputo una integrazione della medicina estetica perché no? e siamo così? prego, prego chiedo scusa è il concetto proprio di prendersi cura di sé a 360 gradi quindi con una buona alimentazione e l'attività fisica anche la cosmesi è prendersi cura di sé e tutto ciò che è emerso in questa puntata è valido sia per le donne che per gli uomini assolutamente, anche gli uomini devono prendersi cura della propria pelle utilizzando delle creme chiaramente l'uomo così come le donne con pelle e con pelli seborroiche l'uomo ha bisogno di una crema, necessita di una crema un po' più fluida più delicata perché in genere gli dà fastidio la crema troppo più leggera quindi più leggera, sì, più leggera come texture sempre una crema idratante ma più leggera come texture però anche l'uomo deve foto, proteggersi, idratarsi e sfogliarsi è uguale, è quello che vale per le donne anche per gli uomini per concludere, qualche curiosità mi scrivono o anche in ambulatorio mi chiedono consigliami una buona crema non esiste una buona crema in assoluto esiste una buona crema per noi, per il nostro tipo di pelle quindi così come non esiste una crema antirughe che elimina le rughe non esiste una buona crema in generale dobbiamo studiare una cosmesi adatta per il nostro tipo di pelle quella sarà per noi la nostra buona crema grazie dottoressa per questi preziosi suggerimenti estivi grazie alla dottoressa Claudia Ceccaroli per essere restata con noi e grazie a tutti voi per l'attenzione alla prossima puntata, arrivederci grazie a tutti